Come nostra tradizione abbiamo cantanti ma abbiamo anche gruppi musicali e abbiamo anche dei bravi gruppi musicali perché voi dovete sapere che durante le selezioni che avvengono mesi prima del Canta Festival Giro la direzione artistica, soprattutto con il padron e tutto uno staff tecnico di esperti di musica e di canzoni valutano questi testi che arrivano in direzione. La direzione vi sente, ascolta, come si fa in tutti i festival, e poi sceglie i migliori. E noi, appunto, la direzione del Canta Festival Giro ha scelto i migliori gruppi, ha scelto i migliori cantanti e quindi ora ci andiamo a sentire, a gustare questa meraviglia di gruppo musicale. Loro sono cinque elementi perché loro sono appunto i Megan Wavis. Megan Wavis, magari il nome, venite qua, mettiamoci qui davanti alle nostre telecamere e voglio che lo dite voi. Megan Wavis, dillo tu, dillo tu al microfono, dillo tu. Megan Wavis. Ecco, Megan Wavis, senti, voi siete cinque elementi, il tuo nome? Antonio. Antonio, velocemente scorri. Angela. Angela. Gennaro. Gennaro. Emiliano. Emiliano. Manuela. Manuela. Senti, voi appunto che genere fate questa Megan Wavis? Noi facciamo pop rock. Pop rock, pop rock. Allora direi che appunto ci gustiamo questo pop rock, sono cinque elementi e questo bel gruppo musicale dal nome inglese. E quindi direi che, ecco questo è un pezzo vostro, l'hai fatto bene a portarlo, il primo CD di Megan Wavis. Ecco, Megan Wavis, Inferno o Paradiso. C'era un testo teatrale che facevo, Inferno o Paradiso. Facciamo vedere appunto, facciamo vedere le telecamere che inquadrono questo pezzo di Megan Wavis, Inferno o Paradiso. E un bel nome, un bel testo. Io ho fatto uno spettacolo teatrale con Giorgio Albertazzi che si chiamava Inferno o Paradiso. Paradiso o Inferno. Ecco, quindi il nome mi piace perché viene da un testo teatrale che io facevo in teatro un anno fa con Giorgio Albertazzi. Bellissimo. Senti, questo pezzo l'avete registrato, sì, ed è prodotto da? Questo qua, gli autori sono Nicola De Bona e poi il povero William Di Paolo che è deceduto l'anno scorso. Allora William Di Paola e Nicola De Bono che sono appunto gli autori di questo testo, Inferno o Paradiso, che è prodotto da? Da noi. Quindi autoprodotto, autoprodotto e allora lo facciamo vedere un attimo di nuovo per la seconda volta sulle telecamere in modo che lo comprate. Comprate questo pezzo bellissimo, Inferno o Paradiso, di questo gruppo Megan Wavis e io direi che a questo punto, se voi mi permettete, vi voglio lasciare tutto quel palcoscenico per voi perché la gente deve solo ascoltare la musica, perché quella che arriva e il messaggio deve essere quello. Poche parole, tanta musica. A voi palcoscenico. A voi palcoscenico. Grazie. 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 Grazie.